Oh, allora, bella a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Finalmente siamo tornati su Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint Speriamo finalmente di aver risolto il problema con i video Perché purtroppo sto avendo dei problemi con il caricamento dei video E con l'audio del programma di uso attualmente per registrare i video Perciò, come al solito Ci danno sempre problemi Comunque Siamo andati avanti per le missioni dopo essere stati in prigione Dopo essere stati in un centro di ricerca Dopo essere stati attaccati dai cacciatori mascherati con dei droni Finalmente siamo riusciti a salvare la dottoressa Paula Madera E adesso continuiamo le altre missioni Ovvero la nostra missione che stiamo facendo in questo momento In questo preciso momento stiamo facendo la missione Aspetta, vediamo se vi è capo a farla vedere Stiamo facendo la missione di raggiungere la server farm di Aurora Perché bisogna impedire di correggere la backdoor installata nel programma di controllo dei droni I server dati al laboratorio tecnologico devono essere distrutti I programmatori della squadra di sicurezza portati via Praticamente dobbiamo andare a distruggere dei server E poi dobbiamo portare via la squadra di sicurezza Questa è la seconda missione che ci ha dato Skell Ovviamente Ovviamente dopo aver parlato con lui e dopo aver salvato la dottoressa Paula Madera Che attualmente è con i ribelli in un'isola Con i risoluti, quindi chiamano risoluti e ribelli E niente, andiamo in questa altra zona Abbiamo anche la neve Abbiamo anche la nuova Abbiamo anche la nuova Abbiamo anche la nuova Abbiamo anche la nuova Oh no, merda, merda, merda In guardia, è possibile evitare le nemiche Merda, ci sono forze nemiche Merda, merda, merda Merda, merda, merda Merda, 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 merda No Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Dai, maremma! 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 Grazie! C'era... ... 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